Buongiorno e benvenuto a tutti su Mass Effect Legendary Edition L'unica edizione con tutti DLC Ma io credo che basti così, no? Al limite sai cosa faccio? Metto precedenza al framerate Così non ho scatti E poi Lo cambio in fase di gameplay John o Jane? No, John Un pochino John Sì! Ok Basta, tutto qui Minchia, fantasia Ho già cominciato su PC quindi Ok, nel 1948 Ho scoperto una nuova civiltà su Marte Da qui una tecnologia per piegare lo spazio-tempo Questa tecnologia si chiama effetto massa Forse perché è quello che ottieni quando pieghi lo spazio-tempo Siamo in possibilità del portale di Arcturus Prime Specifichiamo che qui si vede in 720, eh? Non in 1080 Su PS5 sarà 1080, 1440 Sì, dove? Poi non è neanche 60 frame per secondo Quindi Eccolo, il Mass Effect Vedi tutta quella massa che gira Madonna Ironico il fatto che sia tutto rimasterizzato in 4K E io ci gioco in 720 Computer missione Ok Perfetto Bello Ehm... Ok Come si corre? No, no, qua c'ha roba da pigliare No, stavo cercando un altro Dio puttana Ah, ecco, con X Ora sì che si ragiona Nooo Che ganso Oh, madonna Il V-Sync fa veramente cagare Devo dirtelo Ho visto una cosa Un tearing che faceva Vabbè Comunque su PC Quando ci giocavo io fino a ieri Questa gente qua non c'era Era tutto vuoto Oltre ad avere la grafica La grafica è scarsa Buongior Che ne pensi comandante? Fa tutto cagare nella vita La merda Va bene Sei contento? Non essere impaziente Sei ancora giovane caporale Hai una lunga Beh? La carriera davanti a te E ho messo la priorità al framerate Eh? Non preoccuparti signore Ora se non mi fai altri scherzi Preferibilmente Ah, ok Assaggiate questo Come si togliono le armi? No Ma perché? Ho premuto quadrato per parlare Comandante Shepard Speravo che arrivasse qui per primo Come mai così ritardo? L'alleanza è davvero pronta per questo Non lo so, dimmelo a te Ma Madonna Questa missione è molto più Di un semplice viaggio di collaudo Non mi piace essere tenuto all'oscuro, capitano Ordini dall'alto, comandante Erano informazioni da divulgare Solo in caso di emergenza Ma lo vedo un po' spento, eh Ti chiamerò occhi di vetro Per quanto tu sia di colore È un manufatto protea L'ultima volta che abbiamo fatto una scoperta del genere La nostra tecnologia ha fatto un balzo in avanti di 200 anni Sì, ho capito, però non è che ogni cosa che fate in mondo deve portarvi avanti Dobbiamo portare la sua Ricorda che a un certo punto più va avanti più torno indietro Capirai che non sono in gioco solo in terzi umanica Tipo con la bomba atomica La terra ne ha bisogno, Shepard Va bene Contiamo su di te Come fanno a sapere che l'aria è respirabile? Per il resto voglio il silenzio radio Precedenza alla qualità, ok Occhi aperti Perfetto Oh, finalmente Voi non lo sapete Ma io da pc a playstation 4 cambia tutto Uno ti dà Come si fa Come si cambia l'arma? No Quella è la granata Ah Però carino Ah, ok, così L1 E come faccio a sapere quali sono? Eh, ho capito Ma sono tutti uguali Come si fa a correre? Con X Perfetto Secondo me è Twitch che lo manda a puttane Perché se do la pregianza al framerate Dovrebbe recuperarli Ecco Posto No, ancora Grazie Almeno togli e mettilo Da nessuna parte perché siamo già qui Fanculo a chi dice che giocare sul pc è meglio Forse per la grafica Ma per quanto riguarda i comandi No, perché io sul mio computer Avevo sto problema della sensibilità Il fuoco è una merda Te lo dico Però Ah Wow Vedo che non è diventato splatter Con la legendary edition Se è rimasto sempre uguale Vediamo se Mi dà soddisfazione Mi garba che È tecnologico Ma perché questo serve la pistola? Vede, cioè Si monta l'arma Cioè Questa è la cosa mi garba Sono un bambino Si sta compenetrando l'arma Con l'armatura Corazzo il battaglio Potenziamolo scudo Tre punti soli però Direi Tac e tac Ah Punti due Voglio spenderlo lì Posso? Ma perché? Uno Oh Questo si che dà soddisfazioni Voglio solo questo ora No Ho sbagliato Colpa mia Preso Non l'ho preso io Addio Ciao Dritto nell'occhio Mi dà fastidio che se salta il dialog Mi risponde anche in automatico No tu non hai capito Non devi mai Nella vita Usare la pistola Fa cagare Preso Preso Addio E mori Avvia Come fallita Premi i pulsanti Nell'ordine indicato Prima che cada il tempo Ah Ok No Ho capito Su pc Devi solo fare un giochino Col mouse Ah è praticamente Just Dance Quello che si trova Nella sala giochi No Umani Sia lodato il creatore Oddio Credo che il peggio sia passato Sa cosa è successo alla sonda? I marine li hanno respinti Per permetterci di trovare un nascondibile Di noi resteranno solo cadaveri e macerie Cosa è il suo assistente? Dopo l'attacco gli ho somministrato Una dose extra delle sue medicine Sari delle tenebre Sì vabbè Ok filmato Potevi interromperlo un po' Nio meno bruscamente Non mi aspettavo di trovare Dei get da queste parti La situazione è critica Ho tutto sotto controllo C'è qualcosa qui? Sì Ok C'è una piattaforma Dove? Ah Minchia Più è grande E meno la noti Braccia Non gli faccio nulla Ok Sì però anche te muori ogni tanto Sì Ducato Qui c'è una porta A posto Calma da fuori Stiamo uscendo Siamo disarmati Ah Siamo al sicuro? Se ne sono andati Ora siete al sicuro Nessuno vi farà del male Ci avrebbero sicuramente trovati Siamo in debito con voi Diggli del rumore Cole Quel rumore tremendo Quale? Facevo uno strano rumore Mentre atterrava Come se qualcuno stesse urlando Dall'oltre tomba Forse serviva a interrompere Tutte le comunicazioni Ehi Cole Noi siamo solo dei contadini Ma loro sono soldati Forse dovremmo dargli la roba Quale roba? Quando imparerai a startene zitto Hai qualcosa da dirmi Cole Dei tizi avevano un giro di contrabbando Allo spazio porto Niente di che In cambio di una piccola percentuale Gli lasciavamo tenere la roba Nelle nostre rimesse Stai violando la legge Cole Non facciamo del male a nessuno Non è che se non fai male a nessuno Smetti di essere un crimine Anche vadere le tasse Non porta a crimini fisici Verso nessuno Ma comunque un crimine Mi garba che le risposte siano Meno aggressive Man mano che si sale No Non ho detto a cambiare arma Ripunila E lo va a fare No Madonna che pollo Indaga Si è mosso qualcosa Dietro quelle casse Aspettate Non sparate Sono dei vostri Ho visto cos'è successo Quel Turian L'altro Turian Gli ha sparato Devo sapere com'è morto Mi mantengo neutrale per ora L'altro era arrivato qui per primo Poi il tuo amico Si è come calmato Ha abbassato la guardia E Saren Lo ha ucciso Io ero nascosto dietro le casse Di solito mi metto dietro le casse Dove La pigrizia ti ha salvato la pelle Se non ti fossi preso quella pausa Forse saresti morto come tutti gli altri E l'altra volta ho provato a rispondere su PC Sei una persona rivoltante E lui ha risposto Eh ma non ero armato Ma ero ammazzato Si in effetti Ok basta Dobbiamo trovare quella sonda Prima che si attrava Prendete il treno L'altro Turian è andato proprio da quella Io Io non posso restare Ok Madonna R1 preso i poteri Ho i poteri? Wow No io Porca madonna Perché è bloccato? Cosa sta facendo? E io perché colpello alla testa che devo fare? Ciccio Vediamo Sì L'ho preso alla grande Nell'occhio Che cazzo fai? Spare i bidoni Oddio come si curano le cose? Aiuto Come si cura? Aiuto come si cura? Piazzate le cariche Eliminate l'intera colonia Uh Cioè ha visto la madonna? Che Disinnisca Intanto voi fate le cose Ullala Un po' lontano però Non lo becco? No l'ho beccata con invece Fucile vediamo se funziona meglio Ok No 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 Scarica Scarica Oh che cazzo Mi dà fastidio che la visuale si blocca così Quadrato Fili Oh bello Certo Se gli spara i piedi è normale che Però Bella spinta ma è garbata questa Perché di solito la pistola siccome ha una rapida successione di colpi Dovrebbe essere più veloce Agile Proviamola subito Ok Mi garba Non c'è niente che non mi garbi in sto gioco In realtà No 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 Troppo veloce sono stato mi sa Non raggio il sistema Facciamo così Siccome siamo a questo punto Te così e te cosa E via Sì ho capito va bene Sembrano dei ghoul come si chiamano quelli che lancia le redazioni Just dance ogni volta che devo fare sta cosa Normandy La sonda è al sicuro No Fantastico Richiedo l'evacuazione immediata Madonna le voci che si accavallano perché mi ha bruciato i frame No no attento Ui ciccio Lati dal cazzo Ma cos'è un magnete Energetico però Si vede un cazzo E' fumettistico Almeno così sicuro Oi Di carbo al flash forward Si è visto un cazzo però Cos'è il Thanos di Mass Effect questo O solo del primo Potrebbe essere Loki quindi forte ma stupido Oppure il Thanos che fino all'ultimo capitolo non puoi affrontare Notare che quando hai a che fare con giochi che usano tanto fanservice A un certo punto le tette non ti fanno più nessun effetto Eh dio Oh ciao Sei fatto stare in pensiero Shepard Come ti senti? Eh Quanto sono stato K.O Quasi 15 ore È colpa mia Devo aver attivato un sistema di pensiero quando mi sono avvicinata Non potevi sapere cosa sarebbe successo Appunto Non sappiamo neanche se si è attivata per questo E non lo scopriremo mai purtroppo Esplosa O magari si è autodistrutta perché era un messaggio Potrebbe essere tre cose O è esplosa perché era instabile O è esplosa perché ha mandato il messaggio ed era programmata per autodistruggersi O perché non ha rilevato la presenza che si aspettava E quindi si è autodistrutta per salvare i segreti Quindi per noi sono visioni per magari la razza aliena che doveva vederli Erano un messaggio ben definito Come sta il mio secondo in comando dottoressa? Tutti i valori sono nella norma Il comandante si rimetterà presto Sembra che quella sonda ti abbia messo al tappeto comandante Non mi piace veder morire i miei uomini Jenkins non è morto per colpa tua Hai fatto un ottimo lavoro Cioè prima giustifico l'azione per impedire alla sindrome del sopravvissuto E venire fuori nella soldatessa E poi faccio la stessa cosa io Vabbè Parliamoci chiaro Shepard La situazione è critica Non ho niente da nascondere Non è colpa mia capitano Spero che il consiglio lo riconosca Sì ma io la volevo meno vittimistica la risposta Sostenerti Shepard Più responsabile No più cosciente Ma non sono qui per questo Sarene è uno spettro Uno dei migliori Una legge Va bene ho capito Sarene è pericoloso E odia gli umani Perché? Credo che ci stiamo espandendo troppo velocemente occupando la galassia Tu eri lì appena prima che la sonda si autodistruggesse Hai visto qualcosa? Ho avuto una specie di visione Che genere di visione? E questo non lo posso sapere Lo fermerò Proverò un modo per fermarlo Non è così facile Sarene è uno spettro Può andare ovunque e fare qualsiasi cosa Ti serve l'appoggio del consiglio Hai sul ponte di A-Joker di farci attraccare Può andare ovunque e fare qualsiasi cosa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti